Circa 300 visitatori in tre giorni. L'Ovidi Taberna non delude le aspettative e si conferma una valida proposta culturale. La mostra dei 200 libri antichi di Ovidio, a cura di Demsicore dell'Appennino, Fabbrica Cultura e Comitato Abruzzo, sta riscuotendo successo tra turisti e residenti. Nei giorni scorsi è stata anche visitata da un centinaio di studenti del Centro Scuola Toronto, in città per una vacanza a studio. Molti turisti a Sulmone in questi giorni, sia stranieri sia italiani, soprattutto dal nord Italia. La DMC, afferma il presidente Anna Berghella, è fiera di aver centrato il completamento dell'offerta turistica delle festività pasquali, riproponendo la mostra ovidiana. I numeri e l'entusiasmo dei visitatori ci confermano che la strada da seguire è questa cultura, qualità, passione. Tra le novità di questa seconda edizione, il Touch Table per la consultazione digitale di alcuni testi e le visite guidate dedicate ai bambini. Un percorso tra testi antiche e curiosità per far conoscere il poeta Peligno. Ai più piccini, l'appuntamento è per domani e lunedì alle 17.30. In caso di numerose adesioni, la visita guidata si svolgerà ogni 20 minuti per un massimo di tre gruppi. Per la giornata di chiusura e 29 marzo sono in programma due appuntamenti. Alle 17.30 l'archivista di Stato, Beatrice Ricottilli, terrà una conferenza sul tema La storia dell'uomo attraverso i supporti scrittori. A seguire ti presento Ovidio, un incontro informale dedicato alla presentazione del poeta e della sua opera. L'Ovidi Taberna, mostra dei libri antichi del poeta Ovidio, è aperta tutti i giorni fino al 29 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Lunedì 28 marzo con orario continuato, dalle 10 alle 20. Ingresso gratuito, visite guidate su richiesta.